Alla fine il bacio è arrivato. Luca Onestini e Ivana Amrazova escono allo scoperto. Dopo il grande fratello Vip, l'ex tronista e la modella sono stati spesso inseparabili, ma non hanno mai confermato di avere una relazione. Ivana ha chiuso la sua storia con Alessandro Allevato e Luca ha sempre ribadito il suo interesse per la bionda. Ora, durante un collegamento a mattino 5 da Federica Panicucci, messi alle strette dalle voci che circolano sul web, i due si sono baciati un'altra coppia, nata grazie al reality di Cinecittà. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori